Nello specifico l'innovazione non è certo da attribuirsi allo strumento che ovviamente è stato inventato prima della fibra di carbonio, ma in questa versione riesce ad abbinare le caratteristiche tipiche della fibra di carbonio del preimpegnato epossidico già utilizzati nella Formula 1 e nel settore per esempio aeronautico e spaziale in una versione che ha un carbon look nuovo particolarmente apprezzato che sta incontrando il favore nel settore dell'aredamento in tutto ciò che può essere qualificato anche dal punto di vista estetico come una novità. In questo caso l'applicazione è stata fatta con un carbonio 3K preimpregnato è un prodotto che si chiama Epopreg di Polint e che è una assoluta novità del salone particolarmente apprezzato. Poi sulle tecniche di applicazione e di costruzione, meglio del produttore, del progettista, credo che nessuno ci possa dare chiarimento. Questa chitarra è stata realizzata in un sandwich di materiale composito più all'interno un'anima in mogano dove permette un buon mix tra le sonorità della fibra di carbonio e le sonorità del legno che fino ad oggi è sempre utilizzato negli strumenti musicali. Grazie anche a un'insonorizzazione particolare si è arrivati a ottenere uno strumento molto valido sia dal punto di vista estetico grazie anche proprio alle grandi caratteristiche estetiche che questo materiale dispone fino ad arrivare poi proprio a quello che è il vero strumento quindi anche una leggerezza di questo strumento è una comodità, è un conforto tale da permetterti di avere un oggetto un po' diverso, innovativo da un certo punto di vista anche tecnologico soprattutto, ma un progetto che è nato e cresciuto interamente in un'azienda piccola che nel suo complesso è in grado di poter realizzare prodotti anche molto più grandi.